Musica 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 Ciao gentaglia, sono Asciuta HeyToo, bentornati su Breaking Italy spero abbiate passato un buon weekend e se potete fatemi un favore, rispondetemi nei commenti alla seguente domanda Che problemi hanno le persone su internet con gli aerei? Mentre non ce l'avamo, infatti, è caduto un altro aereo avrei potuto dirlo in un sacco di modi differenti ma il punto è questo, è caduto un aereo e non si sa bene perché sono morte 224 persone che erano a bordo e il veivolo si è schiantato qui nella regione del Sinai in Egitto ma era di proprietà di un'azienda russa infatti la maggior parte, la quasi totalità delle persone che stavano all'interno dell'aereo era di nazionalità russa quindi internet si è subito riempita di un sacco di professionisti che lavorano presso me stesso laureati nella strada della vita perfetti conoscitori delle meccaniche di volo, dei testi di resistenza di tutto il resto di un Airbus A321 quindi se chiedete a me posso dirvi che quello che sappiamo non è tanto se chiedete a queste persone potrebbe scoprire altre cose ad esempio che il carburante dei jet non riesce a fondere le barre d'acciaio comunque il punto è che l'aereo per qualche ragione si è spaccato a metà in volo un pezzo ha preso fuoco, un pezzo è esploso non si sa se ci fosse una bomba all'interno o semplicemente se l'aereo fosse in pessime condizioni già prima di partire ci sono varie teorie in merito tutto verrà spiegato quando si leggeranno i dati all'interno delle due scatole nere che sono già state recuperate poi ovviamente comunque questo non servirà a nulla perché la maggior parte delle persone ha già deciso cosa è successo una roba interessante è che non l'ISIS perché in molti hanno detto l'ISIS ma non è vero un gruppo che opera in Egitto e che è affiliato ma che non è in effetti stato islamico ha rivendicato l'attacco terroristico dicendo appunto che sono stati loro anche se poi non ci sono abbastanza prove l'unica possibilità a quanto pare sarebbe quella di aver messo una bomba all'interno dell'aereo perché poi abbatterlo mentre è in volo richiede delle strumentazioni che apparentemente i terroristi dell'uovo non hanno lo stato islamico comunque in genere non si prende la paternità di cose che non ha fatto tendenzialmente però questo non vale per gli affiliati locali in franchising e queste differenze sono importanti prendete ad esempio la notizia che circolerà moltissimo in queste ore nei prossimi giorni in specie nei gruppi pro Putin che cercano di dare una visione del conflitto in Siria molto superficiale da poter dire che l'occidente è terrorista tutto il resto bla 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 sovvenzioniamo i terroristi invece Putin va lì e col pene picchia tutti non è esattamente così infatti è molto circolata la notizia probabilmente vera a questo punto che dei ribelli siriani avrebbero spesso utilizzato come scudi umani soldati leali al regime e cittadini di minoranza alla guita mettendoli dentro a delle gabbie in modo da coprirsi con la loro presenza da eventuali bombardamenti è una tecnica che praticamente tutti i terroristi usano che è ovviamente una schifezza e che adesso salta fuori che anche i ribelli sovvenzionati dall'occidente contro Assad e tutto il resto utilizzerebbero anche se poi effettivamente non è così perché chi viene accusato di fare questo tipo di cosa non è la Free Syrian Army che è il libero esercito siriano che sono quelli che vengono normalmente definiti i ribelli moderati ma è invece un altro gruppo islamista che si chiama Jaish al-Islam in questo caso i due sono alleati ma non è la stessa cosa anche se qui il discorso volendo si può spaccare ed è abbastanza interessante perché da una parte c'è chi dice sì vabbè però se tu sei alleato con quelli in qualche modo sei responsabile di quello che fanno è come essere alleati con Hitler ma dire noi non centriamo niente con quello che sta facendo Hitler perfetto d'altra parte però puoi non essere alleato con Hitler puoi essere alleato di Stalin è sempre una situazione di ok siamo alleati per il male comune non è esattamente la stessa cosa però ci sono dei margini di discussione e comunque è importante sottolineare che la Siria è un casino ma non è il casino semplice del ci sono i terroristi e poi c'è Putin è un casino di quelli complessi anche se bisogna ammettere che l'intervento russo in poche settimane ha fatto prendere al conflitto delle pieghe che l'occidente non è riuscito a imprimere in mesi parlando di altre cose fantastiche che ho trovato questo lunedì c'è innanzitutto una roba che viene direttamente da Google e che potenzialmente può cambiare il mondo che è una roba che si può dire di un sacco di progetti di Google perchè le idee spesso ci sono e l'esecuzione che ogni tanto è un po' claudicante quindi peraltro visto che ci siamo auguri a YouTube Red che è iniziato e vedremo nelle prossime settimane slash mesi se effettivamente sta funzionando se aiuta i creatori e tutta questa roba qui comunque non è una cosa interna né a YouTube né a internet ma anzi è qualcosa che porta fuori da internet la pubblicità quindi già una roba ahhh la pubblicità però è figo perchè parliamo di cartelloni pubblicitari per ora in giro per Londra in via sperimentale che utilizzano i sistemi di double click che per molti potrebbero non significare niente ma sono tendenzialmente parte delle meccaniche per dirla molto semplicemente che YouTube utilizza per mettere le pubblicità sui siti quindi di fatto utilizzando la stessa cosa anche in posti come strade, stazioni, aeroporti e robe di questo tipo questo ad esempio è addirittura la pubblicità di uno YouTuber per strada che è qualcosa di molto strano per ora ma potrebbe non essere così strano in futuro perchè gli adulti di domani sono i giovani di oggi il più grande elemento di differenza tra la vecchia generazione e quella nuova è proprio internet l'utilizzo che si fa di internet e quindi la familiarità personaggi contenuti dati cose che stanno in questo mondo e che faticano per ora uscire da questo mondo a parte alcuni casi spesso tragici dei quali non si parla in pubblico mai grazie a Google questo potrebbe o potrebbe non cambiare non è detto trovo che comunque sia interessante la possibilità c'è anche il fatto che l'Expo è finito e quindi internet si è riempito di un sacco di video assolutamente interessanti ho anche abbassato la voce per dire questo assolutamente interessanti però ne valeva la pena perchè come posso definire un video che mostra una fiera vuota e che dice guardate questa fiera è vuota per ribadire il concetto che l'Expo non serviva a niente ora ne avevamo parlato all'inizio dell'Expo molti di voi mi avevano chiesto cosa ne pensassi dovremmo spendere questi soldi dovremmo invece spenderli per altre cose e uno dei discorsi di una minoranza degli italiani che saltava fuori era l'Expo aiuterà la crescita servirà per creare lavoro e altri dicevano invece no i soldi sono buttati e tutto il resto apparentemente invece l'Expo è stata una bomba non solo per i biglietti venduti che apparentemente sono stati molti ma proprio per la quantità di lavoro e di indotto generati secondo alcune proiezioni che si spingerebbero fino allo 0,4% dell'intero prodotto interno all'ordo del paese parliamo di circa 21,5 milioni di biglietti venduti ma anche del costo delle cose vendute all'interno della fiera e di tutto l'indotto che si è generato a causa della fiera quindi gli alberghi i trasporti le aziende ai quali sono stati appaltati i lavori per Expo per costruirlo per tirarlo su per mantenerlo per pulirlo insomma apparentemente questa cosa è stata un successo sono contentissimo del fatto che sia stata fatta che sia stata un successo mi dispiace non esserci andato ma trovo sinceramente emblematico il fatto che adesso tutti quanti omg omg guardate tutto è sporco tutto è abbandonato è vuoto certo che è vuoto perché la fiera è chiusa c'è anche un video fantastico ripreso da un articolo dell'independent che mostra un sacco di persone che stanno sui binari e fanno cose è una roba della quale avevamo già parlato però nel caso dovessimo ribadirla di nuovo se aveste questa idea in caso non so un giorno vi svegliaste e diceste una roba tipo sai cosa a me allo specchio proprio voglia di andare sulle rotaglie di un treno sdraiarmi e farmi fare una bella foto o farmi un selfie e metterlo su snapchat e su instagram e poi morire perché è quello che potrebbe succedere quindi magari non fatelo questa cosa è un problema un trend mondiale crescente smettiamo di fare questa roba qui all'anno buio un sacco di persone travolte dai treni non fatevi travolgere dai treni non è una buona idea non si vale una foto su instagram non è un buon posto per farsi i selfie stanno pure per aprire starbucks andate da starbucks compratevi un frappuccino un moccaccino e fatevi gli selfie lì è meglio che morire sicuramente l'avete visto volevo semplicemente fare un lento applauso anzi lo faccio un più sentire un lento applauso a tutte le persone che hanno abboccato alla storia di volkswagen che siccome ha 800.000 macchine invendute le regala su facebook buco e chiede agli utenti di scrivere pure il colore della macchina dei loro sogni e poi gli sarà recapitata a casa o qualcosa che era ovviamente un super fake la pagina era palesemente fatta per far capire che era uno scherzo aveva pochissimi iscritti non era verificata e nonostante il fatto che stamattina l'autore dello scherzo si sia pure messo come profilo togliendo il logo di volkswagen la sua di faccia le persone hanno continuato a commentare per qualche ora sperando che qualcuno regalasse loro una macchina così perché è un mondo nel quale la gente ti regala le macchine ovviamente poi quando è saltato fuori che questa roba è una bufala perché tutti quanti ne hanno parlato allora sono iniziati ad arrivare i commenti che dicevano nooo ma era uno scherzo io l'ho sempre saputo ho commentato per gioco hanno commentato i miei amici dal bar è stato il gatto che si rotolava sulla tastiera non sono io che ci sono cascato siete voi che ci siete cascati perché l'internet funziona più o meno così perché questo credo che sia il punto molti stanno dicendo ah Darwin Awards la maggior parte delle persone sono stupide e io non credo credo che invece la maggior parte delle persone non siano ben educate all'utilizzo del mezzo quindi prendono per vera ogni cosa che un minimo sembri professionale c'è il logo di Volkswagen la pagina sembra un minimo curata perfetto allora a bocco perché probabilmente non ho nemmeno gli strumenti per capire che questa cosa è un imbruglio questo dovrebbe far riflettere poi mettersi a sparare e roba tipo ah sono tutti stupidi tranne me quello non è internet quello è il mondo è sempre stato così continuerà a essere così tutti quanti sono convinti di essere più intelligenti di tutti quanti anche se indovinate cosa la statistica la matematica non sono d'accordo su questo in ultimo fresh from Turchia Erdogan ha vinto le elezioni non lui il suo partito ma tecnicamente le ha vinte lui come sapete infatti le elezioni in Turchia erano già avvenute ma si era fallito nel tentativo di costruire un governo quindi il presidente Erdogan ha semplicemente deciso più o meno di minare le discussioni secondo molte persone non secondo tutti per riportare tutti quanti una seconda volta alle urne e riprovare una seconda tornata elettorale metti il caso che il suo partito vinca e infatti ha vinto ha preso 316 su 550 seggi che non sono abbastanza per cambiare la costituzione ma sono abbastanza per governare senza alleanze e il fatto della costituzione è semplicemente importante perché il presidente Erdogan apparentemente ha intenzione di modificarla in modo da creare una repubblica presidenziale sul modello statunitense in tanti si chiedono come mai Erdogan che sempre di più mostra delle tendenze autoritarie continua a essere votato dai turchi e le ragioni possono essere varie sono probabilmente da ricercarsi nella paura dell'instabilità la Turchia infatti ha una lunghissima storia di golpe militari questo governo non ci piace arrivano i militari e lo tolgono con le armi nuovo governo non ci piace arrivano i militari blam! dal 2002 è stato Erdogan con il suo partito e infatti adesso che ci sono più problemi ovvero la guerra che proprio il presidente ha ripreso con i kurdi del PKK ma anche il ISIS alle porte ma anche i forti flussi migratori che passano dentro la Turchia hanno spaventato probabilmente le persone che quindi seguendo la solita e semplicissima legge del lui mi dà qualcosa mi dà stabilità e tutti gli altri invece non mi convincono molto hanno deciso di votarlo magari tu vorresti votare qualcun altro ma quel qualcun altro non è molto forte e quindi fa il discorso del e vabbè se non voti lui chi vota? compito per casa velocemente mentalmente prendete sta roba e applicatela anche alla politica italiana di adesso di 5 di 10 di 15 di 20 anni fa dipendentemente da quale è la vostra età e potrebbe essere che ci vediate un pattern comune non dico che lo vedrete ma potreste vederci degli elementi quindi basta parlando troppo chiudiamo sta puntata questi sono i nostri alfieri per oggi vengono da un piccolo paese in Sardegna che si chiama Ozzieri e non so come si chiamano perché non mi avete scritto i vostri nomi quindi miei conterranei vi saluto siete i nostri alfieri per oggi e per tutti gli altri grazie per aver guardato sino qui io sono Asciuta Heizio questo era Breaking Italy ci vediamo domani grazie a tutti